Il valore dei dati è sicuramente vitale, direi, perché in base alla possibilità di avere dei dati e di estrarre da questi delle informazioni, noi basiamo sostanzialmente tutta la nostra offerta commerciale, quindi il nostro potere verso i nostri clienti, la nostra offerta, ma soprattutto riusciamo anche a gestire quello che è il nostro business, non solo esternamente ma anche internamente. I dati che noi utilizziamo maggiormente sono i dati dei nostri clienti che sono sostanzialmente del mondo industriale, quindi dal mondo della mobilità al mondo produttivo, al mondo manutentivo, quindi tutto quello che riguarda la produzione, manutenzione e distribuzione di qualsiasi tipo di prodotto è possibile, può essere tracciato sotto forma di dato. Questi dati devono essere opportunamente elaborati per estrarre dai dati delle informazioni che sono poi quelli che interessano a noi e soprattutto ai nostri clienti per poter fare il loro lavoro. Sono molto importanti, soprattutto negli ultimi anni, oggi e sicuramente a venire, perché rappresentano l'indicatore di come le aziende stanno trasformandosi, stanno seguendo quello che è l'evoluzione contemporanea e soprattutto riescono ad essere efficaci ed efficienti sul mercato. Ci sono disponibili una buona quantità di dati, direi a volte anche esuberante quantità di dati. Sicuramente è importante fare un'estrazione di dati il più possibile opportuna per, ripeto, trarre informazioni dai dati. Quindi sicuramente il continuo affinamento della sorgente di dati e un miglioramento del trattamento dei dati stessi è fondamentale proprio per trarre quelle informazioni vitali per le imprese. Grazie